una delle grandi caratteristiche del coltello cinese o mannaia cinese sta nella possibilità di utilizzarla non solo come coltello quindi per tagliare come vediamo adesso possiamo utilizzarla anche per andare a schiacciare perché ha una bella superficie ampia per poter schiacciare gli elementi sotto e quindi questa funzione è comodissima e l'altra cosa che secondo me è la funzione più comoda di tutte è quella di poterla utilizzare come paletta in questo modo riusciamo a spostare una grandissima quantità di cibo dal tagliere alla pentola o a un contenitore fantastico io amo questo coltello